Ciao, bentornati sul mio canale Oggi mi presento come Geisha in occasione di Halloween E' tutto fatto a mano da me, ovviamente, body painting Il kimono è fatto interamente a mano, con colori ad acqua, ve lo faccio vedere, altrimenti non ci credete Sono io sotto, quindi questa è la mia pelle E poi l'illusione ottica e c'è il kimono dipinto L'idea mi è venuta da un progetto che ho fatto quando studiavo in Accademia a Londra Durante il corso di airbrush e body painting Ognuno doveva scegliere cosa proporre E io ho scelto di presentare un progetto riguardante la Geisha Che è un personaggio che mi è sempre piaciuto della cultura giapponese Io che sono anche appassionata di tè, della cerimonia del tè Avevo pensato di mettere anche un po' di sangue finto Di rovinare un po', fare una Geisha zombie Ma mi piaceva troppo il trucco, quindi non ho voluto rovinarlo Spero che piaccia anche a voi, potete riproporlo per Halloween E magari se volete andare ad una festa un po' più stile horror Ci potete aggiungere del sangue finto, delle ferite Vi lascio al tutorial e ci vediamo al prossimo video Un bacio! Inizio tracciando i bordi del mio disegno con una matita bianca E state bene attenti alla simmetria Quindi giratevi sempre da un lato all'altro del volto Vado ad appiattire le mie sopracciglia con della colla in stick E vado a disegnare anche questa forma sulle sopracciglia Che potete facilmente cancellare e ridisegnare Se appunto le due parti non sono simmetriche Adesso iniziamo a colorare Prendiamo un viola da body painting Io sto usando uno della Kryolan E vado a colorare le parti esterne del volto La parte interna del volto la vado a dipingere con un colore bianco Sempre da body painting Usando un pennello quadrato Che ci permetterà di delineare perfettamente i bordi E le parti più piccole potete disegnarle con un pennello a punta Un pennello da dettaglio come sto facendo io qui Quindi andiamo a ricoprire tutto il volto di bianco Anche gli occhi E lasciamo solamente la parte delle sopracciglia Facciamo un mix di questi due colori rosa e viola E con il pennello a punta Vado a colorare Questa parte di viola Fino alle mie sopracciglia che ho nascosto Ricalco l'estremità di questo disegno Con il viola per rendere tutto più tridimensionale Nella rima interna dell'occhio applico una matita bianca E all'attaccatura delle ciglia una matita nera Che ci servirà a stemperare il trucco quando andremo ad applicare le ciglia finte Applico quelle della Mazing Shine sulla parte superiore numero 706 E sotto sto applicando quelle della MAC nel numero 44 Passiamo alle labbra che vado a disegnare con la matita Cherry della MAC E le vado a fare leggermente più ristrette rispetto a quelle mie naturali Perché le labbra delle Geisha sono appunto molto molto piccole a cuoricino Come rossetto applico All Fired Up sempre della MAC Che è un rossetto opaco E adesso prendiamo un giallo Sempre da body painting Quello era della MAC E andiamo ad applicarlo sulle estremità delle sopracciglia Portandolo fino al naso E anche ai bordi delle labbra Per farle risaltare Passiamo al corpo Vado a tracciare una linea bianca dove voglio che inizi il kimono E dipingo il mio collo di bianco Con lo stesso viola che ho usato per il volto Vado a dipingere la mia pelle E ovviamente io mi sono fermata all'inquadratura della videocamera E voi potete magari mettere una fascia e dipingere tutto il resto del corpo, del busto E applico il colore a più riprese per renderlo più intenso Applico del bianco per delineare la linea del colletto del kimono E faccio anche una linea obliqua che sarà la linea dove andremo a disegnare dei bottoncini Con il nero traccio l'estremità del colletto Per renderlo più tridimensionale E vado ad ombreggiare un lato del collo Per dare appunto l'effetto più realistico Traccio la linea del kimono E vado a dipingere dei piccoli bottoncini con il nero Iniziamo adesso a decorare il nostro kimono Io sto utilizzando il bianco per fare due fiori grandi Uno sul lato sinistro del kimono E uno sul lato destro Potete utilizzare la vostra fantasia per decorarlo Io mi sono ispirata a dei disegni trovati su internet di vari kimono E sto usando un pennello a punta per body painting E dopo aver fatto questi due fiori grandi Vado a disegnare vari petali Quelli per il kimono Dopo questo primo strato di fiori Prendo dell'azzurro e vado a dettagliare di più i miei fiori Lo applico solamente alla fine di ogni petalo E potete appunto giocare di fantasia Adesso prendo del giallo e vado a colorare la parte interna Di due fiori grandi E a disegnare altri petali Con il giallo Per donare più vivacità e colore al mio kimono Faccio la stessa cosa anche con l'arancio Vado a dettagliare i miei fiori grandi E poi vado a disegnare altri petali e fiorellini sparsi per il mio kimono Con il giallo traccio dei puntini ornamentali Che vanno a congiungere alcuni fiori Sul mio kimono E questo appunto ha un effetto più decorativo Continuo a decorare la parte destra del kimono Che avevo deciso di non decorare tutta Però poi vedendola in camera non mi piaceva molto E quindi ho deciso di decorarlo lo stesso Non ci resta che passare ai capelli Che ho diviso in tre sezioni Cotonato leggermente e legato all'indietro Ho messo un'orchidea nei capelli E questo è il trucco finito Con tanto di teiera per la cerimonia del tè Ci ho messo davvero davvero tanto tempo Tanta passione Datemi un like Condividetelo sui vostri social Perché no così magari altre persone possono vederlo E se non lo siete già iscrivetevi al canale Così mi aiutate a crescere Un bacio e ci vediamo al prossimo video E buon Halloween